salve a tutti ragazzi e sono qui per recensirvi il mio fucile da software ci la pompa il più economico che di tutti gli altri ovvero il m5 mosberg 500 o 590 della agm in particolarità il modello sta scritto 401 s 401 s allora questa è la sua scatola bella tutto in cartone tutto in cartone senza disegno cartone polistirolo come tutte le altre poi qua ci abbiamo il manualetto di istruzioni con varie configurazioni del modello questo è il modello a quello con il calcio è il modello b che c'è io con l'impugnatura pistola quindi di conseguenza un banale delle istruzioni classico in inglese in cinese ovviamente le parti posteriori si possono intercambiare tra di loro si possono cambiarsi tra di loro come configurato qua volevo precisare che farò solo la video recensione le prove di tiro le farò in un secondo momento non so quando magari da qualche parte dove in cui posso usare la replica del soft e quando ci avrò tempo farò su una di esse la prova di tiro eccolo qua poi qua ci abbiamo dei pallini di prova non li usate usare quelli di alta qualità uno spegni fiamma rosso in questo caso è colorato di arancione per il trasporto per la sicurezza del per il trasporto quindi mi raccomando quando la portate al di fuori del delle mure domestiche ovvero quando la portate al di fuori se la portate fuori la sala usate fuori casa ricordatevi di inserirlo sempre un bibilo classico classico e il nostro fucile e sotto troviamo l'asta pulisci canna molto bella e molto per sbloccare i pallini inceppati questo è il fucile a pompa questo ovvero è l m 500 o l m 590 questo è il fucile a pompa di grande auto 4 di gta 4 vedete proprio il suo modello la sicura che quello vero è qua sopra invece la troviamo posta qua qua c'è la sicura è così ovviamente questo è tutto l'interno la canna all'interno in alluminio se riuscite a vedere se riuscite a vedere la canna all'interno in alluminio ovviamente questo è single shot non è un trishotto ma è single shot raga caricatore si sgancia qua caricatore se lo stesso del del cecchino questo contiene quindici colpi si mette qua dire indietro e si spara oppure in singola azione così questo c'è anche il da il doppiazione quindi tenendo per muti grilletto e fare in questo modo ha pure lo pap regolabile vedete in questo verso qua così c'è così non c'è inserendolo fa girare il pallino in un modo che va più veloce inserendolo fa girare il pallino in modo che va più veloce ovviamente questo fucile a pompa costa solo 30 euro è fatto la maggior parte tutto in abs la canna esterna è fatta in zama che sarebbe un metallo di scarsa qualità poi il copri il copri canna che questo qua il copro copri canna che sarebbe in metallo come quello vero e di conseguenza questo è un bel fucilino bel fucilino da collezione bene se tutto noi ci vedremo al prossimo video ciao ragazzi ciao